Benvenuti al Muppetbook, 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 benvenuti al Muppetbook in Biblioteca Che l'hai finita la camicetta per l'avvocato di pappa? No, eh, e non l'ho finita ancora, e ci vuole? Eh, ci vuole, ci vuole, e ti ci vuole sempre molto di tempo a te per finire una cosa Guarda, che si deve consegnare entro sabato a Roma Ah, guarda che l'ho arrivata, ai ai, il nostro nipatino, oh come l'è bello, non ce n'è? Ehi, ciao ziette, bellissime ziette, come siate belle, è tanto tempo che non ci si vede Ah, che amore tu sei Sentite, zine, ziette, ci avete, mi potete prestare un po' di sordini, ho una cena stasera? Eh, voglia per te, guarda per te qualsiasi cosa, ma zia, sì Grazie, ziette Io sono il grande Dimitri Karamazov, sono invincibile Io le sei, caramazov, ma che mazzo per questa vita Ah, niente va bene, uomo, no fedele, Dio, Dio, è importante per vita di uomo Ma andrà tutto bene, ti dice tuo fratello Ivan Ragazzi, 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 allora, ma avete deciso che devoi sposare me? Oh, per me, no, io non so, però per me, non so Oh, porca paletta, allora io sposare vostro padre, vecchio, brodo, però, almeno, eh Ah, che è stato? Mi, mi, che è stato? Che è stato? Ah, che è stato? Che è stato? Ah, che è stato? Ah, che è stato datum? Non, 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 è se, può essere, possiamo fare, possiamo fare, possiamo fare tutto bene, abbiamo bisogno combattere, perché abbiamo bisogno, abbiamo bisogno, prossima Grazie a tutti.